Sereni, Rolando, Butic. Questi nuovi nomi che il calcio a mercato porta all'Arezzo. Di Sereni conosciamo ormai tutto e si tratta di un gradito ritorno. Mentre per Rolando e Butic c'è qualcosa da dire. Mattia Rolando è stato acquisito dal Gozzano, dove in questo campionato ha messo dentro 7 gol su 21 presenze. Classe 92 ha cominciato il suo percorso con l'Alessandria stagione 2009-2010, poi Acquanera in Serie D, Lavagnese e Novese nella stagione 2011-2012, quindi il salto nell'allora C2 con Gavorrano e Valle d'Aosta nella stagione 2012-2013. Poi due stagioni ad Asti nell'annata 2015-2016, lo troviamo allo Sporting Bellinzago, sempre in Serie D, poi Varese, e dal dicembre 2017 nella Caronnese, quindi l'arrivo al Gozzano, dove è stato tra i protagonisti di questo inizio di stagione, con 7 gol messi a segno. Carlo Butic, giocatore croato, classe 1998, era il bomber nella passata stagione della primavera del Torino con 20 gol realizzati, i Granata l'avevano prelevato dall'Inter a parametro zero. Nella formazione croata dello Zadar aveva compiuto tutto il percorso delle giovanili, giocando anche un anno in prima squadra. Nella stagione 2015-2016 ha collezionato 29 presenze e 6 gol prima dell'arrivo in Italia. Nella primavera dell'Inter collezionerà 7 gol e 17 presenze. Ma è con il Torino che esplode, 42 partite disputate con 30 gol realizzati, se non consideriamo soltanto il campionato. Piaceva tantissimo a Mijailovic, tanto che se fosse stato per lui l'avrebbe portato direttamente in prima squadra. Il Torino l'aveva mandato in prestito alla Ternana, dove ha collezionato 13 presenze e nessun gol. C'è da dire che però di queste 13 presenze solo una l'hanno visto protagonista da titolare, mentre in tutti gli altri casi si è dovuto accontentare di scampoli di partita. Un acquisto dunque che potrebbe davvero portare quel qualcosa in più per l'attacco a Maranto.